Ben trovati, mi chiamo Luca Bravi dell'Università di Firenze e cercherò semplicemente di aggiungere a questo racconto della resistenza che stiamo ricostruendo insieme quel frammento di storia che riguarda la partecipazione delle comunità rome e sinte alla liberazione d'Italia. Partiamo da questa targa, che è una targa apposta dal 2013 dalle stesse comunità rome e sinte sul muro esterno dell'ex convento di San Bernardino ad Agnone, una cittadina in provincia di Sernia, perché quello fu il luogo di un campo di concentramento del duce riservato agli zingari, attivo tra il 1940 e il 1943, l'8 settembre del 1943, di fatto liberi dalle guardie, le famiglie che erano imprigionate là dentro poterono riprendere la via di casa e questa via di casa li portò frequentemente verso nord, soprattutto attraversando quelli che erano i sentieri di montagna e fu su quei sentieri di montagna che queste persone incontrarono i partigiani e alcuni dei rome e dei sinti si fermarono proprio con i partigiani. C'è da sottolineare che non è una storia sconosciuta, è una storia di cui conosciamo anche già nomi e cognomi di coloro che parteciparono alla lotta di liberazione. Allora nominarli significa anche farne memoria. Giuseppe Tarzan Catter, Amilca Retaro Debar, Renato Zulim Mastini, Walter Bamba Catter, Lino Ercole Festini, Silvio Paina, Giuseppe Zigari Legbacovic, Vittorio Spazio Mayer Pasquale, Giacomo Sacco, Rubino Bonora, Mirko Levac, Fioravante Lucchesi, Osiride Pevarello, Vittorio Tullo Reinar, Achille Pietro Balino Gabrielli e poi un gruppo di sinti che avevano costituito un gruppo combattente che si chiamavano i Leoni di Breda Solini ed erano tutte persone che erano riuscite a fuggire da un altro campo di concentramento del Duce attivo sempre tra il 40 e il 43 che era quello di Prignano sulla Secchia in provincia di Modena. Anch'esso sconosciuto, non parte della nostra memoria. Una storia che non abbiamo avuto l'opportunità di ricostruire? Direi di no. Si tratta di costruire contesti di ascolto da un lato dei documenti e dall'altro dei testimoni. per esempio Vincenzino Erasma Pevarello è uno di quei testimoni che ha permesso di ricostruire la storia di suo marito Renato Mastini di cui conosciamo già la vicenda senza accorgersene. Perché? Perché è una vicenda che si collega alla storia dei dieci partigiani che furono uccisi l'11 settembre del 1944 al ponte dei Marmi a Vicenza. Era il ponte che essi stessi avevano fatto saltare qualche giorno prima per impedire a un convoglio pieno di armi di raggiungere le linee nazifasciste. Lo dobbiamo al racconto di René Rui che ci svela che quattro di quei partigiani i cui nomi sono già sulla stele erano appartenenti alla comunità dei Roma e dei Sinti. In particolare erano dediti allo spettacolo viaggiante e di notte partecipavano invece alla liberazione. Questi nomi li abbiamo già sentiti ma ripetiamolo Renato Mastini, Walter Bambacatter, Lino Ercole Festini e Silvio Paina. Perché è così importante? Perché non significa che noi non abbiamo avuto l'opportunità di conoscerla questa storia, significa che non abbiamo posto l'attenzione necessaria per collegarla alla storia nazionale. Giuseppe Levakovic negli anni 70 aveva già pubblicato anche un libro per Bonpiani con il suo soprannome tra i Rom, Zigari, e raccontava appunto della sua partecipazione alla lotta partigiana quando sua moglie invece era stata imprigionata in un campo di concentramento, quello di Boiano in provincia di Campobasso e poi quello già nominato di Agnone lì vicino. Che cosa ci insegna questa vicenda? E inserirla all'interno del contesto del racconto della liberazione della resistenza e quindi della costruzione di democrazia. Ci insegna che non esistono due storie divise, non esistono storie frammentate, esiste un'unica storia costruita dalla partecipazione internazionale dalla resistenza, anche della partecipazione di comunità che oggi continuano ad essere disprezzate e ad essere colpite da pesanti stereotipi. Il più forte di questi stereotipi è quello di non considerarli mai come cittadini. Ecco, questa vicenda ci permette di narrare la liberazione ricordandoci che il tema della cittadinanza è strettamente collegato al tema certamente della libertà che riconquistarono, ma anche al tema del riconoscimento e della partecipazione a questa storia. Una delle cose che le comunità Roma e Sinte continuano a ripetere è noi abbiamo partecipato alla vostra stessa vicenda nazionale, anche a quella della liberazione. Ricordarle è un atto di giustizia. Farlo il 25 aprile del 2020 significa in qualche modo ritornare su quei valori e rimetterli al centro della nostra comunità. Grazie. Grazie.